Un progetto che vede impegnata l'Agenzia Regionale del Turismo Puglia, promozione in qualità di partner insieme alla Fondazione Pino Pascali, al Museo di Arte Contemporanea, all'Ufficio del Turismo della Regione del Quarnero, all'Agenzia di Sviluppo della Contea di Spalato, alla Università Ca' Foscari di Venezia, alla Regione Veneto, oltre alla Contea di Gorski-Cotar come capofila. Il workshop è servito a mostrare al pubblico il funzionamento di questo nuovo strumento a disposizione degli organizzatori di eventi culturali, finanziato attraverso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia. Il primo obiettivo della piattaforma online è affermarsi come luogo virtuale per una vera cooperazione. Il secondo è dare informazione sugli eventi culturali che si svolgono in una determinata regione, in modo da promuoverne lo sviluppo turistico in generale e quello culturale in particolare. La cooperazione tramite questa piattaforma mira inoltre a facilitare l'organizzazione di eventi transfrontalieri e a rafforzare in tal modo la cooperazione in corso tra i due paesi per la creazione di un turismo basato sul patrimonio culturale. L'iniziativa si è svolta a Manfredonia presso il Reggio Hotel Manfredi e ha visto la partecipazione di numerosi esperti di turismo, oltre ad amministratori provenienti da tutto il Gargano.